Ci siamo? Ci siamo? Siamo con Gio Ragnada dalla presentazione della Pallacanesta Cantù No, va bene così sei Gio Top Scorer MVP del Trofeo Lombardia Vediamo quali sono le sue sensazioni a battere Milano Gio, sei il MVP e il Top Scorer del Trofeo Lombardia Hai giocato molto bene Quali sono le sensazioni per te per vincere contro Milano è un match ma ovviamente è giusto per vincere E' stato un grande gioco Guardate ragazzi, guardate Voglio vedere con il nostro squadro come funzionavamo contro un top team in la Liga giocavamo bene e tutti rispondono come pensavamo erano loro grande squadra l'Euroleague dovrebbero essere i favoriti per vincere la Liga e vogliamo vedere cosa possiamo fare con un team che dovrebbe essere il miglior e venivamo con la vittoria Si è detto è stata una bella vittoria perché loro volevano vedere come se la cavavano contro una squadra di Euroleague la squadra favorita per il titolo e insomma hanno visto che possono giocarsela alla grande anche contro appunto queste squadre in Euroleague è la squadra che è favorita per il titolo in Italia Seconda domanda saranno per lui l'esordio in Europa quali sono i sentimenti per iniziare l'adventura in Europa che sei un rocchio in Europa in Europa in Europa in Europa Sì non ho nessuna sensazione per ora domanda quando vediamo chi gioca ovviamente conosco un po' più ma sono solo concentrato per essere migliori ogni giorno con i miei amici ogni gioco in Europa voglio vincere ogni gioco quindi cerco concentrato per essere migliori per essere migliori in mia carriera Si ha detto che non ha sensazioni adesso perché non sa contro chi giocheranno però il suo obiettivo è quello indipendentemente che sia EuroCup che sia campionato di giocare forte con tutte le squadre e di cercare di vincere più partite possibili sia che si tratti di campionato sia che si tratti di Coppa grazie grazie grazie